Buongiorno ragazzi, è ormai quasi certo che la lontananza dagli amici, dalla nostra cara scuola, dallo sport e da tutte le cose piene di bellezza e di significato che riempiono la nostra vita, è ormai certo che questa lontananza dovrà durare ancora per qualche altro tempo, oltre i limiti che immaginavamo anche solo qualche settimana fa. Mi colpisce però come tanti di noi, come tanti di voi siano desiderosi di continuare a spendersi nel cammino della conoscenza in queste modalità nuove, perché questa è la via maestra che abbiamo per diventare grandi. E mi colpisce anche il fatto che moltissimi, come mi avete raccontato generosamente, moltissimi di voi, nella fatica incontrata di stare al passo con i compiti, con le lezioni, moltissimi di voi, mi colpisce come abbiano chiesto aiuto con con intelligenza, con semplicità, ai vostri insegnanti, ai vostri compagni di scuola, ai vostri amici. In questo due cose mi sembra che si dimostrino. La prima è che nessuno, come vi dico spesso, nessuno diventa grande, né nella conoscenza, né come persona da solo. La seconda cosa è che non c'è circostanza pur faticosa che possa impedire ad un uomo o ad una donna di vivere intensamente la realtà che gli è data da vivere, facendo leva su quel tanto di bene che abbiamo condiviso in un tratto più o meno lungo del nostro cammino, su quel tanto di bene che ciascuno ha introdotto nel cammino dell'altro, su quel tanto di bene che ciascuno continua ad attendere e a ricercare ogni giorno. Ci stringiamo ai tanti di noi che sono preoccupati oggi per la malattia degli amici, dei loro parenti. Ci stringiamo soprattutto a chi piange per la perdita di una persona cara. Anche a fronte di questo, anche in questo siamo insieme, da uomini grandi, pieni cioè di una domanda di significato e del desiderio di cercare insieme una risposta. E prima ancora, desiderosi di una compagnia che ci aiuti a vivere senza buttar via nulla, nemmeno la mia fragilità e i miei limiti. Due settimane fa alla messa alla televisione del nostro arcivescovo c'è stata una frase che mi ha molto colpito. Ha detto a un certo punto c'è nella storia di ciascuno una verità più profonda della cronaca e dei pregiudizi. C'è una verità che trasfigura la vita e dona libertà e gioia. E' questa verità che insieme vogliamo continuare a cercare dentro ogni lezione, dentro ogni relazione, dentro ogni circostanza. C'è una bellissima poesia di Primo Levi che ho letto in qualche classe, in un paio di prime, se ben ricordo, il giorno della memoria, su cui vorrei tornare insieme a voi adesso. Perché è piena di un desiderio grande, che è quello di riscoprirsi giorno per giorno insieme, sempre più insieme. Non conta per quanto tempo ci si è visti. Magari è diverso, cioè certamente è diverso il grado di compagnia, di dimestichezza, di familiarità che c'è tra i ragazzi di terza, che tre anni che si frequentano, studiano, giocano, crescono insieme e i primini che avevano appena cominciato a conoscersi. Non importa, non conta per quanto tempo ci si è visti. Perché si può essere comunque compagni di cammino, ci si può scoprire compagni di cammino, se anche solo per un momento abbiamo provato a immaginarci insieme, poiché legati dalla stessa strada, dalla stessa urgenza di domandare, dalla stessa sete di verità. Ve la provo a leggere. Agli amici. Cari amici, qui dico amici nel senso vasto della parola, moglie, sorella, sodali, parenti, compagni e compagni di scuola, persone viste una volta sola o praticate per tutta la vita, purché fra noi, per almeno un momento, sia stato teso un segmento, una corda ben definita. Dico per voi, compagni d'un cammino folto, non privo di fatica, è per voi pure che avete perduto l'anima, l'animo, la voglia di vita. O nessuno, o qualcuno, o forse un solo, o tu che mi leggi, ricorda il tempo prima che si indurisse la cera, quando ognuno era come un sigillo, di noi ciascuno arreca all'impronta dell'amico incontrato per via, in ognuno, la traccia di ognuno, per il bene o del male, in saggezza o in follia, ognuno stampato da ognuno. Ora che il tempo urge da presso, che le imprese sono finite, a voi tutti, l'augurio sommesso, che l'autunno sia lungo e mite. Che la pasta di cui è fatta la nostra vita, questo è l'augurio che ci facciamo, trovi sempre una tenerezza di sguardo e di abbraccio, che le impedisca di diventare dura, cioè fredda e disillusa. Che conserviamo l'impronta di ciascuno nella calda cera del nostro desiderare, ognuno stampato da ognuno, in ognuno la traccia di ognuno, come dice il poeta. Anche il nostro tempo ora urge da presso, le circostanze ci incalzano, è vero, ma mi perdoni Primo Levi, non è l'autunno che noi attendiamo, nemmeno quello lungo emite. La vera impresa, la sola urgenza è che la vita rifiorisca, che possa rifiorire adesso, che possa rifiorire sempre. Per questo la memoria delle tante corde tese fra noi, dei tanti segmenti, ci aiuta. Vi invito per questo motivo a un piccolo gioco, per ricordare su quale strada siamo stati raccolti insieme. Troverete le istruzioni sotto questo video, vi serve in pc ma è sufficiente anche il vostro telefono. Vi chiedo di giocare una volta sola, mettendo il vostro nome e cognome, così ci faremo ancora meglio compagnia e potrò peraltro premiare i vincitori come meritano. Il gioco sarà aperto solo fino a mercoledì alle 18. Oltre alla memoria, infatti, c'è bisogno infatti di continuare a cercare oggi, nella nostra quotidianità. Per questo giovedì lanceremo un concorso fotografico intitolato Straordinario Quotidiano, a cui parteciperanno anche delle altre scuole. Per il momento, cari ragazzi, vi saluto caramente con grande affetto e vi auguro una grande settimana.